Posto stavolta per la partenza, va dunque in partenza la seconda corsa di Palermo. Seconda corsa di Palermo, corsa trio indigeni di tre anni sulla breve distanza, in 12 al via dopo il ritiro del numero 3 Tanus De Gleris, favori al gioco per il numero 9 Tayo Cruz. I cavalli sono sulla retta di fronte per lo stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede l'ottima partenza della notiziata Tesis GV che viene da diverse prestazioni negative, ma era annunciata in progresso, va al comando nei confronti di Tebest, come al solito piuttosto sollecito, mentre viene squalificato il favorito Tayo Cruz. C'era stato qualche problema ai finimenti nella fase iniziale, evidentemente questo problema ha un po' dato problemi, mentre vediamo che Tony Porzio con Tuono Dipa va a chiedere strada al proprio figlio Giuseppe Porzio Junior al sediolo di Tesis GV. E così, padre e figlio al comando, andiamo a vedere l'andatura di questi primi 600 metri, andatura abbastanza sostenuta sul piede dell'1,16 circa, 45 e mezzo. Nel frattempo fioccano gli errori e le squalifiche, sono andato al tabellone il 4 Tortoli ed il 6 Tangled. Adesso si scambiano ancora i due del team Porzio con Giuseppe Porzio Junior che con Tesis torna in avanti nei confronti del padre Antonino che guida il numero 13 Tuono Dipa che viene adesso avvicinato da Trinac-Riafont. Andiamo a vedere l'andatura di Tesis abbastanza sostenuta, dovrebbe essere un primo chilometro attorno all'1,17, Tesis resta in avanti. Comunque Trinac-Riafont lo segue abbastanza minacciosa mentre appare un po' in difficoltà Tuono Dipa che comunque per il momento mantiene la terza posizione. Tende un po' a spegnersi lo slancio di Trinac-Riafont mentre sembra avere le energie sufficienti per allungare ancora Tesis-GV e così fa entra nettamente in vantaggio in retta d'arrivo e in senita da Trinac-Riafont. Poi anche il numero 11 di Temperance Crystal viene avanti, ultime fasi con il numero 7 di Tesis che viene a vincere molto bene nei confronti con ogni probabilità di Trinac-Riafont e di Temperance Crystal ma per le piazze... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!